Un principio d'incendio si è sviluppato nella mattina di lunedì 5 luglio a Taranto all'interno di un negozio di animali di Via Leoni da poche centinaia di metri dal mercato Fadini, pochi minuti dopo l'apertura dell'esercizio commerciale. I gestori si sarebbero accorti che l'impianto elettrico non stava funzionando a dovere perché avrebbero provato ripetutamente ad accendere le luci causando il sovraccarico e il blocco del contatore. Dopo vari tentativi si sarebbe verificato l'incendio. Una nuvola di fumo nero si è subito diffusa nell'area antistante il negozio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe preso fuoco un deumidificatore probabilmente per un problema di natura elettrica che si trovava nella parte posteriore del locale dove si trovavano gli animali. Ingenti i danni registrati purtroppo non ce l'hanno fatta 35 uccelli di pregiato valore economico. I locali invece non avrebbero registrato lesioni di alcun tipo al di là delle tipiche conseguenze causate dalla diffusione del fumo.